Noi siamo nati come un terremoto per il quale si era creato dal punto di vista legislativo un contatto diretto tra il governo e i comuni. Noi siamo stati per un pezzo il primo terremoto d'Italia dove la regione non aveva ruolo e quindi abbiamo avuto come interlocuzione direttamente il governo. E li abbiamo visti tutti sul cratere a sfilare i presidenti del Consiglio, i ministri, Quindi diciamo abbiamo avuto questa, è inutile fare la storia, dire chi ci ha abbandonato, dire che per un anno e mezzo siamo stati senza la nostra voce, non l'ha sentita nessuno, che grazie all'intervento del presidente Conde e del ministro Di Maio abbiamo avuto la legge sulla ricostruzione e la nomina del commissario alla ricostruzione. Questo noi diciamo ormai sono tutte cose che voi avete anche documentato e che fanno parte della storia. Bene, dopodiché quando, se non ricordo male, a ottobre del 2019 il Parlamento ha leggiferato dicendo che al piano di ricostruzione, il piano di ricostruzione diventava appannaggio esclusivo della regione Campania. Quindi la regione ha istituito questo, che tu chiami tavolo, ma attraverso l'assessore all'urbanistica si è cominciato a lavorare in questa direzione e nella riunione prima dell'estate noi abbiamo avuto una proposta di piano da parte della regione, è intervenuta anche la sovrintendenza, come dicevi tu, mi sembra giusto quando si parla di piano che innanzitutto l'ente preposta alla autoria del vingolo paesaggistico sia presente. Quindi abbiamo recepito, perché ci è stato proprio fisicamente consegnato, una proposta di piano di ricostruzione anche perché ci è scoscritta da alcune zone del territorio, sulle quali i comuni stanno facendo delle valutazioni. Per quanto riguarda l'Acquamini, io sto facendo una valutazione di carattere tecnico con il mio assessore, con la mia amministrazione, col mio ufficio tecnico, abbiamo deciso di interloquire direttamente con chi materialmente in regione ha fatto questo piano e farlo incontrare, se è possibile, se ci riusciamo, con il tecnico incaricato dal comune che poi ha redatto il piano urbanistico comunale del comune, per vedere esattamente come si vanno a coniugare questi due piani, che come si sa l'auspicio mio era che il piano potesse partire dalla zona malorata ma può prendere poi tutto il paese, visto che adesso abbiamo due livelli di pianificazione e due persone se ne occupano, perché da una parte avevamo sullo sfondo la scadenza al 31-12 del 2020, pena il commissariamento per erigere il PUC, il piano urbanistico comunale, dall'altra parte il piano di ricostruzione per legge era arrivato in capo alla regione Campania, quindi diciamo ci siamo mostri su due binari paralleli che io spero si possano incontrare.